buonasera ciao chef grazie e buonasera a voi raccontaci chi sei cosa fai aspetta aspetta c'è la musica chef chi sono e cosa faccio cosa faccio questo già si sa con un poco fondamentale chi sono mi chiamo francesco sono di napoli vivo da molti anni a ischia e da un paio di anni sono in giro per l'estero prima di qua dove eri ma di qua stavo in belgio come era la come qua ma come era la come era la la era un po come qua un po freddino insomma una vita tranquilla un paesi tranquilli meno movimentati dalla mia napoli dai facciamo a ci vedere la postazione della tua di cucina ancora qui vedete la venire questa è la nostra il nostro angolo cottura qui si fanno gli antipasti quasi preparano i primi piatti i nostri microonde che ci aiutano insomma questo è il nostro dove lavoriamo e te esatto io e david noi che ieri sera mi ha detto te fai aiuto cuoco si fai il tipo per aiuto cuoco com'era? 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 ci si non è la non so fare ti ho messo uno so fare e branziio non lo so pulire per cortesia adesso bobo dobbiamo facerlo dobbiamo fargli conoscere al pubblico a bobo, che bobo già si è nascosto vieni eccolo lì ma ve li vieni qua ecco lì usci dall'ombra ci devi raccontare Cosa volete che vi racconto? Ciao ragazzi, io mi chiamo Roberto, detto Bobo per gli amici. Pizzaiolo? Pizzaiolo, nato qua, ci sono sette anni. Come ti trovi? Benissimo, è uno stato molto avanzato, la Danimarca è molto molto ordinata e molto bella. E te, originario, dove sei? Io sono sardo, provincia di Cagliari, ho 40 anni. Abbiamo la stessa età, 81 anni. La tua pizza preferita? La mia pizza preferita, a margherita. La tua qual è? La mia, il ripieno, ucazzone. Bella, quella chiusa a foglio e in fornato. Con il pomodoro sopra o senza? Con il pomodoro, perché mi deve essere un po' umida. A te ti guarda il calzone? A me mi guarda il calzone con i funghi dentro, prosciutto, funghi e mozzarella. Ciao, sono vicino. Devi, ora la nostra arma atomica. L'arma atomica? Eccola lì, la nostra arma atomica. Il più piccolo della comitiva. nome, cognome, grado. Tuo, grado. Grado Scudiera. Come si è capitato quando Danimarca? Bruno è un amico di mio padre, quindi mi ha... Aspetta, Bruno è il padrone del ristorante, il proprietario del posto. E niente, sono il lavapiatti. Aiuto anche il cucino, facendo frittura, magari, un po' anche ogni tanto devi. Poi? Poi? E poi niente, è finito qua il mio compito. Nonì, no, io non lo stavo dicendo niente, ci stavo dando qualche suggerimento. Digli che studi, che stai studiando, che stai preparando. Mi sto preparando per entrare... Oh, si è acceso come una lampadina, si è acceso. Si è acceso come una lampadina. Hai aperto il forno, hai aperto il forno. Che ne pensi della Danimarca, ti cari? Molto bella, soprattutto... Le donne? Le donne, il bosco e la spiaggia. Le cose più belle della Danimarca. Ma quella è una foresta più che un bosco. È grosso, per esempio, un po'. Sempre... alberi ci sono. La base è quella, sotto erba, sopra alberi. Il laghietto. E la bicicletta? La bicicletta mi piace molto, anche oggi ho fatto un bel giro. Mi spiaggia o nella foresta? Entrambe. Tutte e due? Grandissimo. Dica. Voglio concludere perché ho vado a fare. Allora, o che sei un cuoco, o che sei l'aiuto cuoco. Che fa il tipo. O che sei il pizzaiul, o che sei il giovane al lavaggio. Chiunque tu sia, sempre viva la figa. È certo. È sempre. Dopo facciamo vedere anche tutte le cameriere, perché questo è un reparto maschile puramente italiano, però sappiamo che tutte le cameriere sono danesi, quasi tutte, e quindi dobbiamo fare intervista anche a loro dopo. Va benissimo. L'ho detto perché è detto viva la figa. Certo. Si capisce. Si capisce. Come si dice, si intardo? Eia. Eia. Si vuol dire. Si, è appunto. mai lasciare i bicchieri sui bordi dei tavoli, perché se no, fa tutte le robe tutto. Stasera che previsione abbiamo? Previsioni che siamo tranquilli, una cinquantina di pizze circa. Ma niente di che. Una serata easy peasy via, la domenica non è molto... No, la domenica è molto leggera, molto leggera. Però se la gente viene, noi gliela facciamo la cosa da mangiare. E certo. Siamo qua apposta, dice. Ci puoi contare. Minimo, perché se no ci siamo, la gente non mangia. Fammi fare un tour del ristorante, fammi vedere il ristorante. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Dì che sei quello che ci ha dato più tempo qua. Sei il veterano. Sei il veterano. Aspetta, questo è il bar, no? Qui dove fanno... Questo qua è il bar. Dove fanno le begute, le bevande. Le bibitte e tutto quanto. Qua c'è l'entrata del ristorante. L'è il piano di sopra. Con circa 50 posti a sedere sopra. E poi c'è il piano di sotto. Vedi, qua che così lo vedete ancora meglio. Che viene ripreso dal sole. Eh sì, guarda bello che è. E qua lo stesso ci sono circa 50 posti a sedere. Quindi in tutto il centro, via. C'è il sotto. Sì, un centinaio di posti a sedere. E il sopra qua. E il sopra. E niente, questo qua si riempie d'estate. Con la terrazza di fuori nel contorno del ristorante. E si lavora. Quanti siamo qua a lavorare? Siamo tanti, no? Sì, d'estate arriveremo, guarda, tra tre in pizzeria, tre in cucina e due lavapiatti. Saremo una media di sette, otto, nove persone circa, anche dieci. E se ci bisogna. In sala poi? In sala, poi ci sono i camerieri che saranno, sì e non una decina di camerieri. Eh, mica male. Stanno in postazione, uno sta nella sala di sopra, uno sta nella sala di giù e gli altri si dividono per tutta la terrazza che c'è intorno al ristorante. Ah, quindi anche ieri sera eravamo tanti, quanto c'era? C'erano cinque camerieri? C'erano cinque camerieri perché non ci sono i datori di lavoro logicamente, i responsabili del ristorante ci hanno lasciato da soli. Siamo in autogestione. E siamo in autogestione, bravo, bravo, l'è proprio detta, cioè mi ha tolto le parole di bocca. Come a scuola, come a scuola, non c'era l'autogestione a scuola. Ci puoi contare. E niente, e poi con i nuovi arrivi, con i nuovi arrivi di Dede. Un nuovo arrivo sono io, Dede, perché sennò mi chiamava Andrea. Andrea, il mio amico è Andrea. Non so perché mi chiamava Andrea, però abbiamo detto, facciamo facile che mi chiamava Dede, un po' e io sono Dede, perché è facile così. E poi martedì arriva Gabriele anche. Sì, poi arriva Gabriele. E lo bichete in pizzeria. Sì. In pizzeria che viene a imparare a fare la pizza. Sì. Poi c'è lo scudiero che porta i bicchieri. È in gamba, ragazza. È molto in gamba. Viaggia, viaggia. E là se viaggia, l'importante è che non prenda l'aereo perché sennò se ne va più. No, a me l'ora mi ha promesso che mi porta a fare un giro e un bicicletto a modo per la foresta, al lago, in spiaggia. Appena mi sono un po' acclimatato. Ma questo berretto oggi mi fa tutto strano. Stranissimo. Mi è cresciuta la testa stanotte. Comunque, appena mi sono un po' acclimatato, mi ha promesso l'ora che mi porta a fare un bel giretto per tutte le zone forestiere di foresta. Di blocus. Vieni anche te con la bicicletta, no? La bicicletta c'è. La bicicletta che non c'è tanto. È pilota? È pilota, non c'è sopra la bicicletta. Adesso c'è la bicicletta, adesso salgo sui bicicletti e dentro l'estorato. Fisicamente, le dico, non le qualità. Perché non è prestante, non viaggia. Vabbè, anche la sua età, c'è da dire qua. Oh, guarda che io ho la stessa età sua, eh. Sei te l'unico giovincello qua, eh. È vero, è vero. Però vabbè, io ho il trucchetto, io ho elettrica. Vedi, stai già facendo fulmetto. Io baro un po', un po' baro. Sagiuru in sardo. Che vuol dire? Sagiuru? Aiuto. C'hai un aiuto della bicicletta che è elettrica. Sagiuru è aiuto. E aggiuru, borinai, vuol dire aiutare. Il sardo è proprio un'altra lingua a parte, è proprio... Piano piano me lo sto imparando, lo sto imparando. Ti potrei dire che se è l'inglese... Ah, ma guarda, forse è più facile l'inglese che il sardo. Ti puoi contare. Vero? Anzi, per me è molto più semplice il sardo, perché sono sardo. Però... Vabbè, il sardo dicono che sia simile molto allo spagnolo un po'. No, davvero? Sì. Vabbè, se ci pensi anche... La Spagna aveva nei suoi territori la Sardegna, appunto, un aragonese. Quindi può essere. Sì. Ma... Prova un po' a dimmi, non lo spagnolo non l'ho mai studiato, quindi non so direte di certezza. Da forche. Però secondo me dicono che... Fate un attimo una conversazione voi due in sardo, proprio un sardo stretto che non si capisce in italiano. Non fa adesso, perché c'è il giovane nuovo ragazzo che... Vabbè, prova a dimmi domani vado a fare una passeggiata al mare, vieni anche te. Allora, fosti grazie, tu, Benisi, insieme a Mimmi, a fare un bello giri-geddu e mountain bike. E mountain bike. Io ho capito solo mountain bike. Proviamo con l'ore. Dimmi, ieri sera ho visto una tipa e stasera gli voglio dare un colpo perché mi ha fatto l'occhiolino. Come lo diresti in sardo? Cosa, ieri sera? Ieri sera ho visto una tipa, mi ha fatto l'occhiolino e stasera gli do una botta. Ah, ieri sera fai una... Una vicocchetta. E poi mi devo dire, ieri sera vi... Ti vuoi dare un colpetto? Ma ti lo vuoi dare un colpetto? No, non è traducibile in sardo gli voglio dare un colpetto. Non si traduce? No, che buia è molto poca. No, ma puoi, puoi, tranquillo. Al limite mettiamo sottotitoli con una X. E mettiamo il bip. Il bip? Il bip. Va bene, via, allora. Comunque questa è la mia postazione. Sono già preparato il tutto per la serata. Qua è la postazione in comune, i nostri microonde, il frigo, i fornelli. Questa è la postazione dello chef, invece. E qua è dove vengono messi i piatti che poi vengono portati nella sala. Allora, le comande ci escano da qua. Le comande per l'asporto che mettiamo qua. Quindi, tutto a posto. E' tornato lui chef. Ciao, lui chef. Ui. Così è sempre quello stesso video di prima. Eh, sì, ma guarda, abbiamo concluso. Abbiamo fatto un po' di lingua sarda, un po' di slang. Come si dice, il napoletano, ieri sera ho visto una tipa che mi garba, oggi gli voglio dare a botta. Agiavas proprio. Questa qua. Vedi? Scusate. Il dono della sintesi napoletana. Questo è. Fatto. Agiavas proprio. Fatto. Fantastico. Vai. Allora, lo chiudiamo qua, il tour del ristorante per oggi. Poi lo riapriamo quando arrivano le cameriere, quando arrivano quegli altri. E vediamo. Sempre che non c'è stato tanto da fare. Se c'è da fare si lavora, se c'è poco da fare magari un'altra ripresa dopo la facciamo. Salutiamo? Ciao, ciao. Ciao. Grande pizzaiore, guarda là, guarda che arte nello stendere. Grande bobo al lavoro. E qui abbiamo Anas. Hello, Anas. Hello. Tell us something about you. I am here to judge whether they make good pizzas or not. All right. And you can't do that. Yes, so far it looks all right. Looks all right, okay. Eight out of ten. Where are you from? I am from Denmark. Where about, exactly? Where about, exactly. In Aarhus. Aarhus? Aarhus, yes. Oh, okay. It's a good city. So you're not from here? No, but all my life, every summer, I'm here. Okay. And I will be this summer as well. That's just really good. Why, you like Bokus? Yes, the best. The best. The beach. The beach. Have you been here in the summer? No, no. Last year I was in Skagen. Ah, also very good. Yeah, that's nice. But how old are you? How old are you? 24. 24, you're very young. And here, you are a waiter? Yes. That's great. Yeah. A real Vikings. And last year. Okay, let's go and interview the authors. Yes. The waiters. Hello. Hello. What's your name? Maya. Where are you from? Denmark. Where about in Denmark? Coast. The North still. Yes. Look, she should become all red. Yes. I have not found out of the camera. All red traffic lights. Okay, Maya, how old are you? 21. 21. Also very young. Yes. How long have you been working here? This is my fourth season. Fourth season? Yes. You like it? Yes, very much. Very much. I love it now. No. No? Cut the camera. I hate it. Don't tell Bruno. And you? You're not Danish. You're Italian. No. No, I'm Italian. Okay. So you can't talk in Italian if you want. Okay. No. Why? No? We're talking in English. Okay. Where are you from? Italy. Italy. Okay. All right, let's talk in Italian. Okay. All right. Where in Italy? Siracusa. Siracusa. And what do you do here in Denmark? I have a Danish boyfriend. Oh, did you marry a Viking? Not yet. No, not yet. No, but you'll marry me. A September. A September. A September. A Guroni, allora. Thank you. And how many are you here? Two years. Two years. Two years I've done in December. You like to work here? Yeah. Bello, bello, vero? Il ristorante super. Italiano. Italiano doc. E il tuo ruolo qual è? La maniera? Barista. Barista. Maggiormente barista. Maggiormente barista. Okay. Good, good. Your English is very good. Thanks. Yours too. Mine? Yeah, mine is a little bit rusty. Bye. I get used to. I used to live in Manchester. I used to work there for three years. Where are you from? Da dove vieni? Toscana, su Toscana. Ah, okay. Avevi capito dal mio accento inglese che non era un inglese. Esatto. Che non sei datata Roma in giù, ecco. No, no, sono Roma in su. Grande chef. Abbiamo un progettino. No, così non. Cioè, mi stai facendo proprio nel momento del massimo del riboscamento, non proprio rilassamento. No, volevo parlare del progettino. Possiamo fare progettino video per il nostro chef. Certo. Facciamo, rinnoviamo tutto un canale con le ricette dell'evoluzione danese, della cucina italiana. Se lo chef ci sta, lo facciamo. Qualcosa la faremo, certamente. Sicuramente, se mi aiuti, ci possiamo divertire a fare qualcosa. Dai, dai. Troviamo l'idea, troviamo il piatto da fare per i prodotti che riusciamo a trovare qua sul mercato. Perché, insomma, il mercato fa... Questa non è l'Italia, ovviamente. No, ma siamo molto lontani dall'Italia. Esatto. Veramente molto lontani. È ancora una terra da scoprire. Non è la Germania. No. Ecco, quindi è un paese nuovo per la cucina italiana. Vediamo quello che si può fare. Dai. La esperanza è questo. Poi, ovviamente, con il tuo supporto, visto che sei un blogger esperto, può darsi che riusciamo a tirare qualcosa di carino fuori. Sì, facciamo una serie, dai, una serie con i piatti e le variazioni. Cominciamo con uno. Questa serie mi spavento. Lo vediamo con uno. Sì, sì, sì. Facciamo... Lo scriviamo, ci mettiamo l'icconcam, scriviamo il piatto che vogliamo fare. Poi insegneremo, anzi, non insegneremo. Chef insegnerà come fare la variante italiana della cucina danese. No, la variante danese della cucina italiana. Esatto. È più corretta così. È più corretta così grammaticamente. Esatto. Grande. Grazie. Era una bella pizza, vero? Che ci metti sopra, Bobo? Cosa qua? Funghi, cipolla, bacon e carne. Una match. Una match. Una match. Una match. Una match. Famosa? Una pizza famosa questa? No, sì, come sì. Ma come mai è famosa? Perché la prendono tutti. Sì? È la preferita dei danesi. Ah. E che c'è dentro, esattamente, dal menù? Bacon, carne macinata, funghi, cipolla, olio all'aglio, chili e oligo. Leggerina, via. O per una botta al fegato? Mangiano così le pizze danesi. Non trovi pizze semplici. Le vogliono belle cariche? Sì, non è come in Italia. In Italia sono oggi, ma in generale comunque la cucina è molto semplice. Qua invece è proprio elaborata. Ci deve essere sempre carne, ci deve essere sempre... What are you doing? Drinking good coffee latte. Good coffee latte. Yes, it was so good. Dicevi che la cucina deve essere più... Vogliono sempre un po' di carne, verdure. Se per esempio mangiano un secondo, deve esserci sempre una salsa. Difficilmente mangiano, diciamo, asciutto. Però è buono. Che sì? Mi piace la cucina danese. Si calda, sì? Il mio ragazzo è il chef, quindi... E lavora in zona anche lui o lavora... Da qua saranno mezz'oretta. Siamo a Leukken. Ah, sì, era il paese accanto. Praticamente. C'è una danese, ovviamente. È uno chef danese. Bello, però qualche specialità ce la devi far vedere, ma no. Questi piatti nocchi... Qualche giorno organizziamo. Eh, è un piacere. Mi piaceva cucinare qualcosa di tipico danese. Eh, qualcosa veramente molto tipico danese. Un mix e match possiamo fare, no? Eh, anche. Perché no? Si può fare. Quanti anni ha, ragazzi? 26. Ne fa 28 dopo domani. No, lo dicevo che giorno è oggi, 6? No, la settimana prossima. La settimana prossima. Che regalo ti fai? Che regalo ti fai? Ancora non lo so. Ancora non lo so. Intanto gli ho comprato una bella vestaglia, sai di quelle morbide? Una vestaglia? Perché? No, perché? Una vestaglia fresco? No, perché mi prende in giro che io ce l'ho. E dice che per gli uomini non le regala mai nessuno, non le usa mai nessuno. Eh, va bene. E non si trovano effettivamente. E quindi le ho ordinato online. Però penso che gli serve... Penso che gli comprerò la sedia... Gioca al computer. Ha bisogno di una sedia, sai di quelle buone proprio. La gamer? Da gamer, esatto. Ok. Quindi penso che gli vengono una di quelle. Ma io pensavo, le facevi un regalo più piccante, nel senso che ti incartavi te col fiocco, arrivavo lì e dicevi scartami. Ecco il tuo regalo. Quella è la cartolina. Quella è la cartolina, ok. E' il bigliettino d'auguri quello. Poi il regalo è la vestaglia, giustamente. O forse dovrei indossare la vestaglia. E dire scarta la vestaglia, questa è tua. E poi la vuoi? Prendila. E devi prendere anche quello che c'è dentro ora. Sarebbe contento, secondo me. Una buona idea, giusto? Sì, è una ballerina. Sì, è una ballerina che non è normale. Non faccio questo. Sì, puoi fare l'elektro swing. Sì, puoi fare l'elektro swing. Sì, puoi fare. Puoi fare? Puoi fare? No, no, no. No, no, no. You have to work on it. I'm not good. Not at all. You can do it? No, I can do it. You can do it? I can. Yes, you can. No, yes, I can. Yes, I can't. You see? We are very, very busy today. We can tell that. Questa è il Sulte Venzo Men's most action packed, most action Guarda quanto bello il cielo è, è pink, abbiamo il cielo rosa, la camera non si vede ma il cielo rosa Non è molto più, abbiamo il sole, dietro i bambini, non sono ugli Non sono ugli, sono ugli, perché sono moderni, ovvero sono molto più bellissima Si, è molto bene È cold, non è? Per me, non per te, sei un vikente Non è un problema, non è super il caldo No, no, in Olbo, la strada con tutte le parti, con tutte le barri, in questa strada, in l'interno, le ragazze non prenderanno nulla E le ragazze non prenderanno in l'interno, molto più caldo che questo Viking blood Viking blood Alcohol Si Ragnar, Ragnar Lovebrook Si, esatto, e le donne E le donne Finito di fare il pizza Finito Sono libero A posto Ci puoi contare Siamo andati a vedere il tramonto, cielo rosa Si Io ho detto è freddo e lui ha detto no, ho il sangue vikingo, non ho freddo Anche a te, dovresti avere il sangue vichingo, porca miseria, sei grande come un vichingo No, che c'entra? Io non ho il sangue vichingo, ho il sangue toscano Come il sangue toscano? Il sangue toscano Il sangue toscano È bellino però come riprende Ti piace Si 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 Un faiano di merda Fermati buonanissimo. Com'è la pizza? La mia è buona. La di bobo o no? Che c'era dentro? Mortazza e maranzana e mozzarela. La tua invece? C'era mozzarella e salame. Com'era? Buona. La tua invece? La mia è con funghi e mozzarela. Buono. La tua invece? La mia è con funghi e mozzarela. La fontina, salame e un po' di parmigiano. Chef? Com'era la tua pizza? Buona. Che c'era dentro? Carne macinata, pancetta, mozzarela, parmigiano, comodori secchi. Poi? Te lo ricordo più. Ah, è funghi e funghi. Buona allora. Mi piace molto. Ottimo. Già è la terza o la quarta volta che la voglio giocare. Tre o quattro volte lo voglio giocare. Senti che è un GoPro a quattro? No, è un dieci. Ehi, chi c'hai su? Chi c'hai su? Capisci? No, me la presti a lancio. Tanto ho il casco con... Con la gancia. Con la gancia, sì. Con questa ci va bene, tranquillo. Con la gancia, sì.